Secondo me questa sarà una nave molto interessante da sbloccare immediatamente quando sarà disponibile Oggi andiamo a vedere l'anteprima della nave panamericana corazzata Libertad Considerate che però non posso farvi vedere un gameplay ma posso solo farvi vedere la nave nel porto perché è una nave ancora in test In quanto tale, nave da test, potrà subire dei cambiamenti prima dell'uscita definitiva Quindi prendete le notizie che vi do ovviamente come non definitive Andiamo a vedere subito le sue caratteristiche e poi andiamo a fare tutto un ragionamento che ruota intorno alla tipologia di gioco di questa corazzata Equipaggiamento Abbiamo una resistenza di 85.500 punti con una protezione siluro, riduzione d'anno 31% Cannoni a sorpresa tra virgolette da 419 principali ma le secondarie udite udite abbiamo dei 127 e dei 234 Il calibro più grande all'interno del gioco per quanto riguarda le armi secondarie Possiamo anche apprezzarle dal punto di vista proprio scenografico facendo un rapido zoom Eccoli qua i 234 e questi sono i 127 singoli Per quanto poi riguarda invece l'incursione aerea ci torno a breve solo le secondarie perché è l'argomento principale Incursione aerea attacchiamo fino a 11 km con un danno standard di 4.900 Difesa contraerea piuttosto interessante, non eclatante Abbiamo il 411 a corto raggio, il 393 continuo Guardando le esplosioni con 5 esplosioni 1851 il classico inoltre 5.8 di portata Manovrabilità Una nave abbastanza pesante da girare Anche molto lunga come nave Velocità massima 31.500 Mimetizzazione Veniamo spottati a 13 km I potenziamenti per quanto mi riguarda Metto tutti quelli suggeriti dal gioco, le bandierine e tutte quelle che vedete E nell'ultima slot qui potremo aprire un dibattito infinito Però essendo una nave a secondarie io vado a migliorare quelle che sono le secondarie stesse Tramite appunto armamento ausiliario modificato a 2 Tempo di ricarica inferiore e poi tutti gli altri bonus del caso Non finisce qui perché questa nave avrà praticamente Un consumabile infinito Che potremo attivare durante la partita Il cosiddetto controllo diretto sugli operatori della batteria secondaria Portata a batteria secondaria aumentata del 10% E già qua si potrebbe veramente parlare all'infinito Ma non solo Io quando l'ho letto non ci volevo credere Danni della batteria secondaria più 30% Pazzesco Il tutto per 45 secondi Ovviamente questa slot viene caricata in determinate condizioni Potete leggere appunto il metodo per attivarla E decidete voi quando schiacciare F per capirci Quindi magari nell'1 contro 1 Nel 2 contro 1 Quando c'è il nemico davanti a noi Attiveremo il nostro controllo diretto Che farà letteralmente impazzire i 127 E ancora di più i 234 Il tempo di ricarica è di 7,5 Qualcuno potrebbe fare un'osservazione Un tempo di ricarica eccessivo Però parliamo di colpi gestiti automaticamente Dall'intelligenza artificiale del gioco Quindi voi non dovete fare nulla Semplicemente selezionare l'avversario E inizieranno a sparare i colpi in maniera automatica Sempre più precisi i colpi saranno Se andrete a mettere la skill Puntamento manuale batteria secondaria D'accordo? Capitano ovviamente Le skill che vengono suggerite Sono le skill che vi servono Non c'è nient'altro da fare Non c'è nient'altro da cambiare Si potrebbe osare Levando esperto di prevenzione incendi Per il più proprio ok E mettere la butto lì Una squadra di riparazione Con preparazione migliorata E poi l'ultima skill Con manutenzione preventiva Ci sono tante combinazioni Che possiamo fare Con questi 4 punti skill risparmiati Però dipende molto Dal vostro stile di gioco E dalla situazione In cui ci andiamo a cacciare Ovviamente magari mi serve questa skill Se sono oggetto di fuoco nemico Con HE Se invece c'è qualcuno Che mi spara le AP A quel punto mi servirà magari Più una squadra di riparazione Con preparazione migliorata D'accordo? O ancora Se viene la porta aerei A quel punto Mi serve esperto in difesa Contra l'area antisommergibile Non possiamo averle tutte Perché altrimenti Sarebbe davvero Una cosa fantastica Questa Ragazzi tra l'altro Se siete raggiunti Fino a questa parte del video Come sempre Un mi piace Per supportare il canale In questo periodo estivo I caricamenti sono diminuiti Perché fa caldo YouTube si spopola E poi mi prendo un pochino Di meritato riposo Le live Tra l'altro Comunico In questo video Lo dirò anche su Instagram E tramite un comunicato Ufficiale Nella community tab Di YouTube Quindi perdonate Se non l'ho fatto prima Però credetemi Sono veramente pieno Fino al collo Di cose da fare Avremo tempo Avrò modo anche di dirvi Qualora Ne abbia l'occasione Una serie di cose Rimanendo nel tema Del video La Libertad La Libertad Si presenta Con una linea Abbastanza Allungata Ma vi ricorda qualcosa Questa linea allungata Parlo solo dell'estetica Casomai qualcuno Pensa che io Stia paragonando Ricorda un pochino La L'Incomparable Inglese Quella linea Proprio allungata Sembrerebbe Ecco Esteticamente Parlando Abbiamo poi Quattro e diciannove E Potremmo A questo punto Anche fare Un piccolo paragone Con l'Atlantico Questa corazzata Di livello 8 premium Che era disponibile Durante Un Appunto Durante la costruzione Nel cantiere navale Di qualche tempo fa Ha I 127 Che abbiamo Già visto in azione E i 234 Che già abbiamo Visto in azione Però Essendo un livello 8 Non ha La Sesta slot Con cui diminuire La Ricarica Ok Cosa che ovviamente Avrà la Libertad Questa nave Ovviamente Si presterà Sicuramente Molto bene Per un pronti via Ci avviciniamo Vicino al cap E le secondarie Potranno beccare Quello che è il cacciatorpedine Di turno Il sommergibile O ancora Qualche nave nemica Che è avanzato Un po' troppo Una nave radar Oppure Qualche corazzata Che sta facendo Un gioco similare Al nostro Penso a una Shiflen Fate molta attenzione Perché ovviamente Bisognerà Valutare Caso per caso Sono molto curioso Di giocarla E io non l'ho ancora Giocato una volta Ci tengo a specificare Questa cosa Con il pennarello rosso Io non ho ancora Giocato questa nave Perché intendo Giocare esclusivamente La nave Quando verrà Rilasciata Sottolineo Inoltre Che anche Qualora Io dovessi giocare Le navi in test Non potrei parlare Delle prestazioni Di gioco Perché semplicemente Appunto È una nave in test Quelle che sto dicendo Sono semplicemente Delle valutazioni Del tutto personali Che si basano Sulle esperienze Di gioco E oltre 18.000 partite O 17.000 partite Non ricordo bene Su World of Warships Gioco dalla beta Un piccolo riassunto Anche per i nuovi iscritti Che continuano Appunto Ad avvicinarsi Non solo al mondo Di World of Warships Ma anche al canale Del buon David Cos'altro Quindi scontro Ravvicinato Una resistenza Tutto sommato Che ci può stare Pensavo peggio Sinceramente Protezione Siluro 31% Direi che è accettabile Sono anche interessanti Da non sottovalutare I 419 Perché comunque È un calibro Molto interessante Molto interessante Anche se La velocità Dei colpi In AP Lascio un pochino Desiderare Sono dei colpi Un pochino lenti Per quanto riguarda Ovviamente I miei Il mio fabbisogno Di velocità Perché ovviamente Il tiro Essendo più teso Ho un calcolo diverso Rispetto a se Il tiro Ha un pochino più Arcato E con Una velocità Ridotta Per i sommergibili Manteniamo come dicevo L'undici chilometri Quindi saremo Abbastanza operativi Per contrastarli Nulla di Eclatante La cosa che Ovviamente Mi lascia anche Piacevolmente sorpreso Avere un'antiaerea Che secondo me Si farà sentire Abbastanza Sui consumabili Nulla da dire Abbiamo veramente Il minimo sindacale Per appunto Utilizzare La nostra Futura Libertad Vi faccio vedere Ancora una volta Qui si potrebbe pensare Addirittura Di mettere Magari una squadra Contro lo danni Modificata 1 Per avere il 40% In più Rispetto ai 20 secondi Indicati Vi faccio vedere Anche il tempo Di ricarica Mettendo batteria Principale Modificata 3 Che passerebbe Dagli attuali 30 secondi Scendiamo Esattamente A 26.4 Che non è un dato Da sottovalutare Parliamo Veramente Di secondi Importanti Però a quel punto Non andremo A Efficientare In maniera Adeguata Le secondarie Secondo il mio punto di vista Invece bisogna Quanto meno Provarci a fare Un po' di partite Con armamento Ausiliare Modificato 2 Sul posizionamento Della nave Non dovrebbe essere Molto complicato Inizio partita Perché è una nave Tutto sommato Non lenta Non è super veloce Ma non è neanche lentissima Considerate inoltre Che per renderla Rapida Nel posizionamento Propulsione Modificata 1 Importantissimo E ancora Andiamo a mettere Rinvigorimento Quindi abbiamo Quel 10% In più Fintanto che siamo Nascosti In ultima analisi Veniamo spottati A 13 km E le secondarie Iniziano a sparare A 12,5 Quindi abbiamo Uno scarto Di 500 metri Rispetto a quando Veniamo spottati Traduco Per i nuovi giocatori Noi veniamo spottati A 13 km Le secondarie Non possono sparare Perché Arrivano a 12,5 Fin tanto che Raggiungiamo Il nemico Ci sono quei 500 metri Canonici In cui appunto Dobbiamo avvicinarci Il prima possibile Il discorso Ovviamente Non Non fa una piega Nel momento In cui abbiamo Il controllo Diretto Attivo A quel punto Avremo il 10% In più E facendo due calcoli Dovremmo appunto Rientrare Tra Lo spot E il L'armamento Secondario La linea Della nave Mi piace Il concept Proprio Mi piace Particolarmente È una nave Che Mi aspettavo Che prima o poi Sarebbe uscita Ne ho parlato Anche Nelle live Passate Nei gameplay Passati Nei discorsi Insomma Che ho fatto Spesso e volentieri Perché una volta messo L'Atlantico Il passo successivo È dare Alla linea Panamericana Delle corazzate Appunto Un qualcosa Di incentrato Sul calibro Più grande Del gioco Per quanto riguarda Le secondarie È un qualcosa Di doveroso Perché altrimenti L'Atlantico Non avrebbe avuto senso Quindi la strada Era stata già spianata Dall'Atlantico Gli sviluppatori Hanno semplicemente Ultimato E continuato Quello che già avevano fatto Era una questione di tempo Prima di vedere Di poter vedere La Libertad Questa Ripeto ancora una volta È una nave Di prova Quando poi verrà Rilasciata ufficialmente Potremo Potrò registrare Il gameplay E parlare Farvi vedere Una partita completa A 360 gradi Però Questa infarinatura Generale È molto importante Perché Se siete Ovviamente Intenzionati A sbloccare Delle nuove navi Secondo me Questa potrebbe essere Una nave Abbastanza Semplice A tante virgolette Da poter utilizzare Proprio perché Le secondarie Andranno a sparare In automatico Lì però Ci servirà Il posizionamento Che è la cosa Più difficile Del gioco Quindi sì La nave Potrebbe essere Semplice Ma C'era superare Lo scoglio Del posizionamento In mappa Che spesso e volentieri I giocatori Ancora Non hanno ben compreso Anche dopo 30, 40, 50 mila Partite Non viste davvero Tantissime Ragazzi Penso di aver fatto Un'analisi Abbastanza piena Spero Complete Che vi abbia Incuriosito Al punto giusto Per questa futura Corazzata Pan Americana Libertad Se così non fosse O Vedete voi Fatemelo sapere Con un commento Li leggerò Tutti quanti Come sempre Con piacere Ragazzi Vi ho terminato Io come sempre Vi ringrazio per i like I commenti E le visualizzazioni E noi come sempre Ci vediamo Con una prossima Analisi O un prossimo gameplay Ciao 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 Bailey Ciao 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 Ciao